Ti aspettiamo a Cava dei Tirreni in via Filangeri 110. Scegli Ice Cava, scegli la qualità. Si è tenuto nel corso del mattino di oggi, sabato 29 giugno, nell'aula consigliare sabato Martelli Castaldi del comune di Cava dei Tirreni, il congresso delle idee di Forza Italia, nel corso del quale i giovani del partito hanno illustrato la presenza del segretario provinciale di Forza Italia Roberto Celano e del segretario cittadino Pasquale Senatore, appunto, le loro idee per il futuro della città metelliana. Stamattina si è tenuto il congresso delle idee, proprio dalle parole, un incontro, un confronto sulle idee per il futuro della nostra città portato avanti da tantissimi giovani iscritti di Forza Italia. Questa è una cosa bellissima che mette al centro i giovani e che dà agli stessi la possibilità di esprimere e di dare delle proprie idee affinché questa città possa cambiare. I giovani sono sempre una risorsa, sono venute fuori tantissime idee, tantissimi spunti per iniziare a costruire una progettualità per questa nostra città. Innanzitutto il tema dell'innovazione tecnologica, della digitalizzazione e tantissimi altri temi in materia urbanistica, di viabilità, veramente tanti da cui prendere spunto e iniziare a concretizzarli poi nelle sede opportune e cioè il Consiglio Comunale.